Ragazzi qui sul canale ogni giorno vengono fatti nuovissimi regali Se volete ricevere anche voi skin, pass battaglia e accessori vari Sarà molto facile Vi basterà iscrivervi al canale Attivare la campanellina delle notifiche su tutte le notifiche Ovviamente lasciare un bel like sotto tutti i video Condividere a più amici possibili E inviarmi la richiesta di amicizia a questo id che vedete qui Official con lao grande trattino medio firex tutto maiuscolo Vi accetterò le richieste Vi verranno fatti dei regali Godetevi il video Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Firex Oggi ragazzi andremo a parlare di una novità veramente assurda Prima di partire col video mi raccomando like, iscrizione e campanellina attiva su tutte le notifiche Se volete ricevere skin, pass battaglia eccetera eccetera Perché proprio oggi saremo in live Quindi aspettate un'oretta dopo uscito il video Perché alle 10 andremo in live Mi raccomando ragazzi tutti i presenti vi voglio in tantissime Andrò a ricaricare anche qualche VBAC per farvi tantissimi regali Mi raccomando alle 10 vi voglio presenti in live ragazzuoli Raga possiamo partire col video Ragazzi nel video di oggi andremo a parlare di qualche codice che verrà rilasciato per qualche skin gratuita Che uscirà all'interno dello shop Come questa qui che vedete nelle estate di ordinaria amministrazione nelle sfide Questa qua sarà una skin che presto uscirà nello shop Ma prima di uscire nello shop ci saranno dei codici che verranno dati appunto su Telegram Da Fortnite Italia Quindi andate a seguire tutti i Fortnite Italia su Telegram Che appunto il sito ufficiale di Fortnite vi darà tantissimi codici per riscattare queste skin Saranno queste due skin Questa qua è stiva e appunto questa qua che avete appena visto Ragazzuoli sarà molto semplice riscattarli perché appunto i codici ve li darà direttamente Epic Games Ma ci sarà anche un piccolo giochetto Perché in questi codici appunto ragazzi non è che si riscatterà subito la skin In poche parole le ultime 4 cifre di questi codici dovranno essere indovinate Perché ci saranno le cifre ma saranno sparse Dovrete indovinare esattamente il modo giusto di mettere quelle cifre Dopo che voi avrete messo il modo giusto potrete riscattare la skin Ovviamente i codici non saranno miliardi Quindi affrettatevi andate subito a seguire Fortnite Italia O qualsiasi sito di Telegram che riposta questi codici Perché ragazzuoli appunto questi codici vi faranno ricevere queste due skin Mi raccomando andate su Telegram Trovate questi codici non sono ancora disponibili Nei prossimi giorni inizieranno ad uscire Seguite tutti i siti possibili di Fortnite News su Telegram Così vi arriveranno questi codici Dovrete indovinare le ultime 4 cifre E se sarete i primi cioè i più fortunati Potrete ricevere appunto queste skin Mi raccomando ragazzi andate a seguire la gente su Telegram che porta news Perché saranno fondamentali Noi ci vediamo con il prossimo video Iscrizione, like e campanellina Ci vediamo tra un'ora in live andiamo a fare un sacco di regali E niente raga ad un prossimo video Bella raga!